Buongiorno a tutti, ci ritroviamo qui dopo la tavola rotonda della mattinata. Il nostro pomeriggio, le nostre prossime due ore, saranno dedicate ad un'esposizione di Marco Moiraghi a proposito dell'edizione critica delle sonate di Scarlatti, che è il lavoro di Una vita di Emilia Fadini, al quale Marco ha collaborato per gli ultimi volumi e che sta portando a termine. Quindi io direi, non è il caso che aggiunga altro, tanto sarà esaustivo il suo intervento. Gli lascio la parola. Bene, grazie allora a Giorgio. Vorrei sapere una cosa da Giorgio e da chi è al Conservatorio. C'è un pubblico che è presente lì con voi? Ci sono persone in ascolto insieme a voi oppure sono solo le persone che vedo ad ascoltare? Sono su YouTube, non numerosissime in questo momento, ma c'è qualcuno che sta seguendo l'esposizione. Ok, bene, bene. D'accordo, grazie. No, no, era per sapere anche come rivolgermi, perché un conto è parlare a un pubblico allargato e magari un altro conto può essere parlare a persone che in gran parte già conoscono molti dettagli di questa edizione. Quindi, diciamo, magari farò un po' una via di mezzo, non mi soffermerò troppo su cose che sono abbastanza note e andrò a toccare qualche punto che potrebbe essere più interessante o più stimolante o magari meno noto in modo tale da fornire qualche spunto di riflessione, qualche idea e poi naturalmente io vi suggerisco, vi stimolo a intervenire per chiedermi, controbattere, commentare, aggiungere perché sicuramente io mi sono occupato di alcune cose, ma qui sono presenti tante persone esperte di varie questioni sia fadiniane sia scarlattiane. Mi conto che rimarrà comunque a disposizione sul web, per cui, insomma, è presumibile che un pubblico più vasto poi nelle prossime settimane lo possa rivedere, ecco. Certo, certo, benissimo, benissimo. Allora, bene, ho chiaro come si può procedere. Allora, io inizierei parlando in generale dell'edizione critica di Scarlatti con poche parole, ma per inquadrare la problematica, che è una problematica che può interessare molte persone e che forse a volte qualcuno interessato alla materia ancora stranamente non conosce perché quest'edizione è un'edizione che, per quanto diffusa, per quanto nota, non sempre è stata adottata in Italia e ancor più all'estero. È un'edizione che presenta alcune piccole difficoltà nell'uso, insieme anche a tanti vantaggi. Quindi è un'edizione che, come un po' tutte, ma in particolare le edizioni critiche che sono corredate da apparato, note, commenti, eccetera, diciamo, va usata in un certo modo. Richiede spesso uno sforzo aggiuntivo da parte del fruitore e quindi non è la solita stampa di musica, non è la solita edizione. È un'edizione particolare che prevede un uso quindi piuttosto accurato, piuttosto approfondito. Ecco, questo potrebbe essere un motivo per cui l'edizione critica Ricordi, curata da Emilia Fadini, iniziata negli anni 70 e tuttora in corso, è un'edizione che è stata largamente condivisa, discussa e utilizzata, ma forse in parte, potremmo dire, non ancora come meritava. È capitato più di una volta, sia a me che ad altre persone che ho conosciuto, di poter constatare che questi volumi, ricordi, siano ancora sconosciuti. Cioè abbiamo potuto constatare che magari per scarlattiani, che sono addirittura scarlattiani incalliti da molti anni, che frequentano scarlatti da tanto tempo, lo suonano, lo studiano da tantissimo tempo, e alcuni di loro paradossalmente, stranamente, non conoscono ancora abbastanza bene queste edizioni. Mi è capitato personalmente di conoscere un musicologo inglese, studioso di scarlatti, che si chiama Barry Hyfe, e questo studioso inglese che da tanti anni studia scarlatti, mi diceva con grande rammarico che quasi tutti i suoi colleghi in Inghilterra non conoscono l'edizione ricordi delle sonate di Scarlatti. Lui l'ha conosciuta tardi, trova che sia un'edizione splendida, importante, decisiva, eppure dice chissà come mai ancora, in molte parti, in molte accademie, in molte scuole di musica, dove io ho potuto constatare, diceva questo studioso, l'edizione critica di Emilia Fadini, edita da ricordi, è pochissimo conosciuta, addirittura per molti scarlattiani del tutto sconosciuta. Quindi lui parlava dell'Inghilterra. Se ci riferiamo all'Italia, naturalmente la situazione non è la stessa, perché è molto più diffusa, essendo un'edizione che è nata in Italia ed è stata principalmente diffusa nella nostra nazione, però diciamo che il lavoro che è stato fatto per questa edizione critica, il lavoro grosso, davvero cospicuo per tanti versi, di ricostruzione, di ridefinizione del testo scarlattiano, è un lavoro che forse non è stato divulgato, diffuso, così capillarmente, così ampiamente, così in modo ormai stabile, come avrebbe meritato. Quindi molti conoscono questa edizione, molti ne hanno sentito parlare, forse non moltissimi l'hanno davvero utilizzata a fondo come meritava. Ecco, questa è un'introduzione che facevo per dire che sì, noi stiamo parlando di una delle edizioni più importanti della musica di Scarlatti, però stranamente ci sono dei lati di questa edizione che ancora non si conoscono bene. Io farò una brevissima sintesi di come è nata, di come si è sviluppata e poi della parte che io conosco di più, che è l'ultima, quella degli ultimi anni, degli ultimi volumi. Dunque, innanzitutto dobbiamo ricordare che Emilia Fadini ha iniziato a collaborare con l'editore Ricordi all'inizio degli anni 70, dapprima come curatrice delle sonate di Poglietti e questo lavoro è stato poi pubblicato in ritardo all'inizio degli anni 80, ma era stato preparato prima di lavorare alle sonate di Domenico Scarlatti. Quindi dapprima Emilia Fadini si era occupata di Alessandro Poglietti, quindi di un autore non notissimo, non centralissimo, però interessante e stimolante a suo modo, e aveva poi accettato da Casa Ricordi di cimentarsi in una opera decisamente più grande, decisamente più impegnativa, decisamente più dispendiosa anche, che era la curatela di tutte le sonate note di Domenico Scarlatti. È già stato detto stamattina che inizialmente l'editore aveva proposto a Emilia Fadini di utilizzare ancora le lastre tipografiche dell'edizione di Alessandro Longo di inizio 900 e la cosa curiosa, come racconta Emilia Fadini in un paio di suoi scritti, è che Emilia Fadini aveva iniziato a lavorare in questo modo, perché l'editore era inizialmente fermamente convinto che si dovesse procedere in tal senso, quindi aveva messo a disposizione tutte le copie dei volumi curati da Longo, Emilia si era data da fare per correggere, ritoccare, rielaborare il testo curato da Longo, ma poi questo lavoro era stato presto interrotto perché Emilia Fadini si era resa conto che non era assolutamente possibile, non era assolutamente conveniente e per certi versi nemmeno giusto procedere in quel modo. C'erano molte ragioni per non farlo. La prima ed essenziale era che addirittura il progetto avrebbe previsto di raschiare e alterare le lastre originarie, quindi si sarebbe perso un documento fisico materiale che era storico e andava invece conservato, quindi Emilia Fadini si opponeva all'operazione di alterazione fisica delle lastre originarie, con cui era stata poi prodotta l'edizione Longo. In secondo luogo c'era una ragione intrinsecamente musicale, e cioè era il rispetto per il testo scarlattiano, era il tentativo quindi di ritornare un po' alle origini, di rivalutare la scrittura originaria di Scarlatti, così come si conosce dalle fonti più autorevoli settecentesche. Quindi noi tutti sappiamo che Scarlatti non ci ha lasciato copie, manoscritte, autografe delle sue sonate, sappiamo che ci dobbiamo affidare alla scrittura dei suoi copisti, però è anche vero che ci sono delle fonti settecentesche che indubbiamente furono molto vicine, molto prossime al compositore, e quindi queste fonti sicuramente sono molto più autorevoli di altre. E giustamente Fadini pensava negli anni settanta che non fosse giusto ripubblicare ancora la versione di Longo, che era una versione sicuramente encomiabile, ma anche molto discutibile per le aggiunte, per le alterazioni, per tante cose che non erano scarlattiane e che erano presenti nel testo curato da Longo. Quindi c'era un motivo proprio intrinsecamente musicale di attenzione, di cura, di rispetto verso il testo delle sonate di Scarlatti, così come c'era stato tramandato fortunatamente da preziosi fonti settecentesche. Quindi c'erano vari motivi per non accettare il progetto Ricordi di ritocco delle lastre di Longo. Per fortuna poi Emilia Fadini, nella diatriba che è sorta fra lei e l'editore, per fortuna ha avuto la meglio e per fortuna nelle lunghe discussioni che fra l'altro lei mi raccontava furono anche aspre, molto aspre, per esempio fra lei e Francesco De Grada. Lei mi raccontava varie volte che Francesco De Grada, allora responsabile di una collana importante, editoriale di Ricordi, musicologo coltissimo e a cui dobbiamo tanto e che io ho avuto anche come insegnante all'università, sicuramente persona autorevole e sapiente per tantissimi versi, però stranamente in quell'occasione De Grada si era inizialmente fissato nell'idea di ripubblicare la scrittura così come si presentava nella revisione di Longo. Ci furono quindi discussioni, dicevo, molto aspre, molto accese. Alla fine Emilia Fadini ebbe la meglio e convinse l'editore nella necessità di procedere verso una edizione completamente nuova, su basi completamente diverse. Bene, noi adesso possiamo da una distanza storica già abbastanza notevole guardare al primo grande blocco di volumi che sono usciti per questa edizione critica. sono i volumi dal numero 1 al numero 8. 1978 la prima uscita, 1995 l'ottava. E quindi sono 17 anni che intercorrono fra il numero 1 e il numero 8. Forse allora, negli anni 80 e 90, quando i volumi stavano ancora uscendo, sembrava che dal primo al sesto, settimo, ottavo ci fosse tantissima distanza. Oggi le cose stanno un po' diversamente perché noi possiamo dire che quella è stata una prima grossa fase di preparazione di questa grande edizione a cui ne è seguita una seconda molto più tardiva che è addirittura data a metà degli anni 10 del nostro secolo ed è continuata fino a un paio di anni fa provvisoriamente ancora incompleta. però spiego meglio per chi non conoscesse la questione cerco di essere molto sintetico. Allora, Emilia Fadini si era già prodotta in questo grande lavoro che l'aveva fra l'altro anche molto stancata per tanti versi perché era stato un lavoro che aveva condotto quasi sempre da sola, completamente ed era un lavoro estremamente gravoso di collazione delle fonti del Settecento un lavoro che molti, mi dicono molti testimoni del suo lavoro degli anni 70 e 80 e probabilmente qui c'è qualcuno anche che lo può dire in quegli anni Emilia a volte letteralmente si murava viva in casa per poter procedere a questo lavoro che avveniva per lo più con la proiezione dei microfilm ed era un lavoro stancantissimo per gli occhi difficilissimo da controllare tecnicamente pieno di possibilità di fraintendimenti e quindi bisognava ritornare spesso sulla stessa battuta, sulla stessa pagina controllare mille volte la stessa cosa tutto ciò voi sapete moltiplicato per migliaia e migliaia di battute per centinaia di sonate per diversi volumi tutti corposi beh, ha prodotto un lavoro che non è soltanto lungo ma è stato veramente massacrante quindi ricordo questa cosa perché magari non tutti sanno che un lavoro del genere è stato principalmente condotto da una persona da sola quando forse andava assegnato ad un'equip di studiosi forse andava distribuito mettendo in gioco tante forze diverse e invece io non so esattamente per quale motivo forse qualcuno qui me lo può dire e sarò interessato nel saperlo ma di fatto Emilia Fadini fu sola in questo grandissimo lavoro certo lei si confrontò con tanti altri studiosi e colleghi lei parlava moltissimo con gli allievi aveva sempre osservazioni, domande, curiosità lei diceva spesso che imparava anche da tutti i suoi colleghi musicisti e compresi gli allievi eccetera quindi c'erano tantissime occasioni di confronto anche con altri musicologi stranieri che si occupavano di edizioni scarlattiane però di fatto il dato che resta direi piuttosto oggettivo e concreto era che poi le decisioni sui testi da pubblicare erano tutte sue le decisioni il lavoro era tutto suo gravava tutto sulle sue spalle e quindi fu un lavoro che durò per questi 17 anni o meglio una ventina da metà degli anni 70 inizio metà anni 70 fino a metà degli anni 90 condotto in pratica esclusivamente da lei poi se c'è qualcuno che vuole intervenire su questo specifico tema può essere interessante sapere se qui c'è qualche testimone che può arricchire questa osservazione che io stavo facendo cioè il perché Emilia Fadini sia stata lasciata sostanzialmente da sola a sobbarcarsi questa enormità di lavoro fatto sta che lei riuscì a farlo il lavoro e lo fece anche molto bene per quanto poi in alcuni volumi siano scappati alcuni errori come spesso succede perché il lavoro era mastodontico e labirintico e lei stessa in anni successivi diceva che tutti questi volumi andavano poi rivisti ricorretti ripuliti da cose che erano rimaste ancora imprecise non ben definite qualche vero e proprio refuso che andava corretto quindi io l'ho sentita tante volte dire che una delle operazioni più urgenti per lei per quanto riguarda l'edizione di Scarlatti sarebbe stata quella che lei si augurava anche negli ultimissimi anni di poter affidare a qualcuno di rivedere i volumi degli anni 70, 80, 90 ripulirli da tutta una serie di imprecisioni questo non toglie assolutamente nulla al valore di questi volumi che sono preziosissimi e io penso che siano in definitiva i testi più belli e più affidabili per quanto riguarda le pubblicazioni di sonate scarlattiane in tempi moderni però ci fa capire che il lavoro era stato veramente gigantesco e che una revisione complessiva andava fatta adesso però procediamo perché questa era la prima fase dell'edizione critica e voglio soltanto far notare che i primi due volumi sono stati i volumi un po' più incerti nella redazione proprio nella scrittura musicale perché ancora nei primi anni quindi sto parlando degli anni 70 ancora fra Emilia Fadini e l'editore Ricordi sussistevano dei piccoli conflitti di opinione o di posizione per esempio non si era del tutto d'accordo su come modernizzare la scrittura su come attualizzarla una delle questioni era l'utilizzo o no di chiavi antiche l'altra questione era il raggruppamento delle note fra loro quindi questioni redazionali anche minime le gambe delle note le barre che uniscono le note la scrittura degli accordi il posizionamento verticale delle note nelle varie voci contrapuntistiche eccetera cioè c'erano tante questioni anche la scrittura degli ornamenti i segni di abbreviazione tante cose che l'editore spingeva per modernizzare e per rendere il testo un'edizione più possibile pratica e la posizione di Emilia Fadini che sostanzialmente spingeva invece per un rispetto il più possibile completo della grafia originaria quella che si può vedere soprattutto nelle fonti spagnole del settecento questo ha portato ad un conflitto interno in ambito editoriale che ha fatto sì che le sonate scarlattiane dei volumi dall'uno all'otto ma in particolare nei primi due volumi presentino qualche ambiguità di scelta editoriale e queste ambiguità sono state per esempio sottolineate anche da Giorgio Pestelli in una delle recensioni più complete e più accurate che sono state fatte di alcuni di questi volumi Pestelli mette in rilievo come a volte ci siano nei testi di queste sonate alcune posizioni che non si capisce esattamente se siano un tentativo di modernizzazione oppure una presa di posizione più conservativa nei confronti della scrittura antica ecco segnalo solo questa cosa per dirvi che questi volumi come del resto non dobbiamo dimenticarci in pratica tutte le edizioni musicali presentano delle problematiche e forse il merito di un'edizione critica è quello anche di sollevare tantissime domande questa è una cosa che si diceva in realtà stamattina anche come atteggiamento generale di Emilia Fadini Emilia Fadini ci teneva molto negli allievi a suscitare tante domande ad aprire la mente ad allargare le prospettive a confrontarsi con tante scelte differenti bene, anche la sua edizione critica ci stimola a questo anche la lettura delle sonate scarlattiane nell'edizione ricordi da lei curata è una spinta fortissima verso il confronto l'analisi il porsi dei dubbi il chiedersi come mai sia stata scritta così una sonata andare alla ricerca di tante motivazioni che invece solitamente non consideriamo quindi farsi tante domande è uno degli obiettivi in generale di un'edizione critica più di un'edizione pratica probabilmente e moltissimo proprio di questa curata da Emilia Fadini adesso però stavo dicendo che volevo presentare una brevissima sintesi storica e quindi andare ai volumi successivi bene dopo una pausa che incredibilmente è durata più di una quindicina d'anni e questa pausa va spiegata con un disguido e problema pratico e legale fra Emilia Fadini e l'editore ricordi non mi sto a soffermare su questa questione spinosa che alcuni di voi sicuramente conoscono ma in sostanza l'editore ricordi alla fine degli anni 90 aveva perso fisicamente durante un trasferimento di casse e di materiali aveva perso il lavoro che Emilia Fadini stava conducendo e che lei aveva provvisoriamente consegnato all'editore questo aveva innescato dei ritardi anche perché l'editore per anni addirittura non aveva voluto ammettere di aver perso questi materiali e poi è successo che la cosa è venuta fuori tardi c'è stata una controversia legale e in sostanza fra il volume 8 e il volume 9 sono passati tantissimi anni a quel punto quando l'edizione è ripartita e si è deciso di procedere finalmente alla pubblicazione del volume 9 Emilia Fadini era nella condizione di chiedere un aiuto si sentiva troppo stanca e aveva bisogno di un aiutante esperto di una persona competente che potesse affiancarla a quel punto sono stato contattato io che l'ho affiancata abbiamo lavorato insieme alla pubblicazione del volume 9 che è uscito nel 2016 e poi abbiamo collaborato ancora per il volume 10 che però lei ha voluto affidarmi quasi completamente che è stato pubblicato nel 2021 devo fare una precisazione perché su questi due volumi avendo seguito l'iter di preparazione completo posso dire dettagliatamente che per ciascun volume è stato necessario lavorare circa 4-5 anni quindi dal 2012 a tutto il 2015 e in parte anche oltre nei primi mesi del 2016 per il volume 9 dal 2016 a tutto il 2020 per il volume 10 quindi se facciamo un pochino di calcoli diciamo che grosso modo un lustro per volume un lustro per volume è un ritmo ben più blando rispetto a quello che lei aveva impresso all'edizione negli anni 70 e 80 dove i volumi uscivano più o meno ogni 2-3 anni perché il ritmo è stato così rallentato da una parte perché appunto ho già ricordato che Emilia Fadini era più anziana e più stanca dall'altra parte anche perché il lavoro condotto insieme a me aveva aperto una serie di enormi problematiche filologiche che ci hanno portato a fare un lavoro anche più accurato anche più vasto e di fatti gli apparati critici dei volumi 9 e 10 sono degli apparati molto molto vasti e sono apparati che presentano tutta una serie di questioni che si sono aperte che si possono consultare nei volumi in questione e che hanno portato a problematizzare ulteriormente il discorso a porre diciamo in un certo senso ancora più domande poi c'è da dire un'ultima questione che può essere interessante le sonate del volume 9 sono probabilmente in parte le sonate più tarde di Scarlatti le sonate del volume 10 sono quelle che appartengono all'importantissima raccolta esercizi per gravicembalo e visto che questi pezzi sono stati copiati moltissimo già fin dal 700 e poi anche nell'800 presentano quindi tantissime varianti presentano tantissime questioni spinose di natura filologica beh anche questo è uno dei motivi per cui il lavoro al volume 9 10 è stato un po' più lento però è stato un lavoro davvero condotto con grande energia ancora da Emilia Fadini io lo posso lo posso testimoniare ho passato intere settimane lunghissime giornate e nottate con lei a lavorare su questi testi e fra l'altro per me personalmente è stata un'esperienza meravigliosa perché in anni di lavoro con lei ho imparato da lei davvero tantissimo lei mi ha trasmesso tantissimo del suo sapere e sarò sempre grato a lei di questa trasmissione di sapere generosissima a piene mani senza mai risparmiarsi d'altra parte poi a un certo punto è subentrata in lei moltissimo la stanchezza davvero una profonda stanchezza che è diventata per il volume 10 superiore un po' alle sue forze tanto che il volume 10 appunto ha voluto che fosse curato in pratica in toto da me con soltanto una sua supervisione conclusiva nonostante questo c'è stato da discutere ancora tanto per gli ultimi ritocchi di questo volume 10 che poneva tantissime domande tantissimi dubbi dopo magari parlerò di un paio di dettagli che possono essere interessanti per tutti posso soltanto dire che il caso ha voluto che il volume 10 che inizialmente era nel progetto editoriale previsto come l'ultimo volume adesso non è più l'ultimo lo dico dopo esattamente il perché ma in ogni caso il volume 10 che fin dagli anni 70 era stato programmato come ultimo volume decimo e ultimo di questa grande edizione critica è stato infine pubblicato nello stesso mese della morte di Emilia Fadini quindi il caso ha voluto che si portasse a compimento definitivamente ad un grande ciclo di studio di curatela di grande passione musicale e filologica di Emilia Fadini esattamente nel momento in cui si compiva anche il suo ciclo esistenziale la cosa è stata commovente devo dire per me che l'avevo affiancata è stata commovente anche per tante altre persone che la conoscevano ma io ricordo che fra gli ultimi contatti telefonate o chiacchierate che ho avuto con Emilia Fadini a inizio 2021 ricordo che c'era in lei comunque il senso di una grande gratitudine e senso di liberazione per essere arrivata alla fine di una impresa che soltanto pochi anni prima sembrava disperatamente lontana dal suo compimento quindi ho ancora impressa nella memoria molto forte la sua voce che mi mi dice alcune alcune cose alcune sue idee che pensava in quel momento ma in sostanza posso dire grande gratitudine per essere riuscita solo nell'ultima parte con me prima da sola spesso con il confronto di tanti colleghi ad arrivare finalmente a vedere pubblicato il volume 10 che appunto il caso vuole che sia uscito nel mese esatto in cui poi lei è scomparsa fisicamente Emilia non ha potuto avere in mano questo volume purtroppo è stata una questione di pochissimi giorni ma lei non ha potuto ricevere in mano il volume e vederlo nelle sue mani ma sapeva che stava per uscire in quel momento quindi era già tutto completato il lavoro le revisioni i controlli che sono stati tantissimi sono stati onerosi i controlli incrociati miei suoi dei redattori e alla fine poco prima di di lasciarci Emilia comunque era serena da questo punto di vista perché sapeva che un grandissimo lavoro in pratica un lavoro che è durato dall'inizio degli anni 70 lo si diceva stamattina che le primissime fasi del lavoro era inizio anni 70 fino all'inizio degli anni 20 quindi si sta dicendo quasi 50 anni di lavoro è un tempo enorme è un'impresa gigantesca che lei ha compiuto e io penso che tutto il mondo della musica in generale non solo chi è interessato alla musica del Settecento ma tutti debbano esserle grati sempre per questa sua fatica gigantesca che ci ha portato in definitiva a ripensare a fondo al testo delle sonate di Scarlatti e non è assolutamente poca cosa perché dopo magari mi posso così addentrare in qualche specifica questione che ci fa capire come dai piccoli dettagli fino alle grandi considerazioni formali di fatto l'edizione ricordi curata da Emilia Fadini sia stata un mezzo potentissimo per ripensare a fondo a Scarlatti davvero io penso in generale questo non è soltanto una questione grafica non è una pura questione tecnica di notazione o di edizione ma è veramente un modo profondo di interpretazione adesso magari mi fermo un attimo perché questa era la prima parte del discorso che volevo fare sicuramente molti di voi sapevano già tantissime di queste questioni ho dovuto fare un riassunto anche per chi eventualmente non le sapeva ma può essere che qualcuno di voi possa intervenire magari per fare dei commenti o delle così ricordarci testimonianze o questioni che riguardano questo lungo percorso esistenziale e lavorativo che è stata l'edizione Scarlatti non so se Pinuccia Carrer vuole intervenire o altre persone che hanno magari conosciuto prima di me in modo diverso Emilia Fadini al lavoro su questi testi ho conosciuto Emilia lo dicevo anche stamattina intorno al 1972 e già nel 1974 75 parlava di questo oneroso impegno e ricordo riunioni a casa sua lo dicevo anche stamane mi ripeto ma così è con Pierluigi Petrobelli e ricordo anche più avanti le sue intuizioni sullo Scarlatti spagnolo e infatti mi aveva aperto un orizzonte che come docente di storia della musica ancora non avevo preso in considerazione presentandomi i saggi di De Faia sul Canteondo e questo era stato per me una scoperta nella scoperta e ricordo anche di aver provato a suonare come allieva di Cembalo qualche suonata di Scarlatti e come diceva stamattina mi pare Farolfi io arrivavo dal pianoforte e dice oh bella questa cosa però e alla fine quello che io presentavo era esattamente il contrario di quello che poi alla fine avrei eseguito uno Scarlatti come Emilia secondo me Scarlatti è un po' l'antenato della Fadini geniale imprevedibile a volte razionale e a volte estremamente romantico quindi questo forse posso dire certo che il compito dell'edizione critica avendone anch'io fatta qualcuna nel mio piccolo è enorme enorme quindi posso capire la fatica di avere compiuto questo lavoro anche con gli ostacoli che nel corso d'opera le si erano presentati davanti bene grazie grazie delle parole della testimonianza io non so se c'è qualcuno che vuole intervenire ancora altrimenti procedo io trovo molto bella questa cosa che ha detto adesso Pinuccia Carrer sulla somiglianza anche a distanza fra Scarlatti e Fadini era venuta in mente anche a me per motivi diversi quando avevo scritto un breve articolo in cui avevo ragionato sul concetto scarlattiano di scherzo ingegnoso dell'arte mi ero reso conto che in fondo questa definizione si adattava moltissimo anche a Emilia Fadini c'era in lei molto vivo il senso dell'imprevedibile e anche dell'irrazionale molto spesso nella musica Emilia si entusiasmava più per le cose fuori fuori norma più per le cose bizzarre centriche impreviste capaci di anche a volte di divertirci di farci ridere di farci sobbalzare piccoli scarti rispetto al percorso previsto e questa cosa la induceva ad entusiasmarsi di magari dettagli a prima vista irrisori di certi pezzi che però la entusiasmavano proprio per questa libertà di pensiero ecco potremmo dirla così una libertà di pensiero che lei a volte mi diceva non ritrovare esattamente nella stessa forma con la stessa modalità un po' bizzarra eccentrica di Scarlatti non ritrovava in Bach per quanto ritenesse che Bach fosse un grandissimo lo adorasse da tutta la vita e lo studiasse da sempre però diceva a volte Bach è troppo serio e Scarlatti mi dà qualcosa che non trovo in Bach è quel lestro ingegnoso bizzarro quel fatto di non prendersi troppo seriamente quel fatto di scrivere magari il contrapunto sbagliato fra virgolette ma un contrapunto che espressivamente può essere addirittura altrettanto efficace quanto quello bacchiano per molti anni noi lo sappiamo che gli autori italiani del settecento sono stati considerati dei cattivi contrapuntisti e sempre c'è stato il confronto con Bach e con la scrittura nordica o tedesca ma soprattutto di Johann Sebastian Bach ritenuta da tutti sommo esempio del contrapunto strumentale barocco nessun dubbio che Johann Sebastian Bach abbia rappresentato un grande vertice nessuno lo può mettere in dubbio però forse studiosi come Emilia Fadini del suo stampo hanno anche contribuito a togliere un po' di così Bach-centrismo potrei chiamarlo nei confronti della visione che abbiamo del contrapunto quindi mi sono permesso in uno scritto di parlare di due principi antitetici ma che si integrano a vicenda un principio Bach e un principio Scarlatti e di constatare che in questa visione del mondo divisa in due parti che però si confrontano molto fra loro Emilia parteggiasse spesso e decisamente per il principio Scarlatti cioè proprio per lo scherzo ingegnoso dell'arte per il fatto di avere elementi che escono dalla normalità e ci danno quel guizzo appassionato e imprevedibile di curiosità di diciamo anche bizzarria estrosa che sicuramente in altri autori non si può ritrovare allo stesso modo io ricordo per esempio distintamente come un giorno lavorando silenziosamente su una battuta scarlattiana difficile da capire per la trascrizione nel volume 9 in un momento di totale e assoluto silenzio e concentrazione dopo diversi minuti di sprofondamento mentale in questa battuta Emilia scoppiasse in una risata fragorosa che era il risultato della comprensione di una bizzarria scarlattiana che lei non aveva mai visto in quel modo e mi diceva guarda che meraviglia guarda qui guarda guarda cosa si permetteva di fare Domenico fantastico meraviglioso ed era quella sua risata improvvisa infantile quasi che spesso hanno notato i suoi amici i suoi collaboratori come un tratto distintivo del suo carattere questo suo sapersi entusiasmare per cose anche piccolissime ma decisive per lei perché erano cose piccole ma veramente importanti che denotavano un atteggiamento un modo di vedere le cose bene allora se non ci sono poi altri interventi su questo tema magari più avanti se qualcuno vuole dare qualche testimonianza o commentare la questione della fatica dell'impresa editoriale fadignana nei confronti di Scarlatti secondo me sarebbe molto utile per tutti sapere anche qualche cosa da voci diverse però adesso posso procedere e posso anche parlarvi di un paio di questioni un pochino più come dire più più tecniche o più specifiche che riguardano questo lavoro che ci interessa tutti siamo molto appassionati incuriositi dal testo delle sonate di Scarlatti io penso che tutti i musicisti o gli studenti o anche gli ascoltatori che si siano avvicinati una volta con reale curiosità al mondo della musica settecentesca e abbiano incontrato sulla loro strada Domenico Scarlatti penso che tutti siano rimasti colpiti dalle sue peculiarità di scrittura dalle sue stranezze compositive e quindi soffermarci su Scarlatti sui suoi testi penso che sia un'operazione assolutamente non peregrina e non inutile ma anzi utilissima anzi decisiva per capire alcune questioni di uno dei grandi compositori dell'epoca ora quando si ricostruisce un testo si è sempre di fronte ad un binomio un binomio abbastanza controverso ed è il rapporto fra il dettaglio e la la forma complessiva ricordo questa cosa perché io sono stato spesso a perdere fra virgolette il tempo su una singola nota e mi trovavo poi magari a disperarmi per essermi reso conto che erano passate ore e ore e io lo fermo ancora sulla stessa nota magari posso dire la stessa battuta forse non proprio la stessa nota ma spesso una battuta mi ha portato via una giornata e ho condiviso questa esperienza con Emilia Fadini tante volte devo dire sia essendo in presenza con lei fianco a fianco nel lavorare sull'edizione critica sia al telefono e molti di voi sanno che Emilia telefonava tanto con tante persone e il telefono era per lei uno strumento essenziale squillava spessissimo parlava con tantissime persone era tutto tranne che isolata e quelli che temevano che andando in montagna in provincia di Bergamo si isolasse dal mondo forse non avevano capito che era esattamente il contrario cioè andando lì lei trovava una sua dimensione esistenziale molto a sua immagine e somiglianza in mezzo alla natura ma i rapporti con allievi colleghi musicisti collaboratori in realtà si infittivano perché nessuno aveva intenzione di lasciare il rapporto con una persona così preziosa così ricca di stimoli e quindi io ricordo benissimo che c'erano giornate in cui il telefono squillava anche 20 o più volte ed erano tutte telefonate accalorate piene di passione per questa o quell'altra questione che andavano dai suoi animali domestici fino alle questioni filologiche e didattiche bene quindi sto dicendo quando mi capitava di soffermarmi su una singola battuta per ore e mi è successo sia da solo sia con Emilia a volte poi alla fine mi chiedevo ma è davvero necessaria questa cosa non stiamo forse perdendo tempo non è non è troppo questo sforzo di comprensione alla fine però ogni volta rispondevo no non è troppo assolutamente questo sforzo è necessario perché da quel dettaglio si capisce tutto un mondo che sta alle spalle di quella nota di quella battuta di quel tratto grafico e abbiamo parlato tante volte io Emilia Fadini di questa questione così particolare ma possibile che quella coda della nota oppure quel puntino che non si sa se è scarlattiano o no possibile che quel taglio quel tratto quella curva grafica che può essere o no una legatura possibile che quella cosa sia così importante quel piccolo dettaglio magari non è stato neppure pensato dall'autore è stato aggiunto successivamente però però sembra che c'entri e allora innesca tutta una serie di riflessioni di confronti sì alla fine anche Emilia effettivamente conveniva sulla importanza dei dettagli che non vuol dire la maniacalità di un'indagine che si deve perdere in mille rivoli non è questo assolutamente bisogna capire bene la differenza fra l'ossessività nel fermarsi su dettagli davvero irrisori e la sostanzialità dell'interpretazione di segni che invece ci dicono tanto dell'autore questa distinzione è una distinzione che adesso non posso spiegare in modo approfondito perché dovrei farvi davvero tanti tanti esempi ma con l'occhio esperto del revisore e Emilia aveva un occhio espertissimo lunghissimo diciamo allenato da decenni di grande esperienza e sapienza musicale davvero Emilia Fadini riusciva ad individuare molto spesso e mi sorprendeva tantissimo per la sua intelligenza immediata nel capire quali erano quei dettagli che potevamo tranquillamente tralasciare io magari poi con ricerche personali consatavo che davvero era così che davvero erano cose trascurabili e invece dall'altra parte quei dettagli che ci dicevano tantissimo e che ponevano questioni interpretative forti e pressanti ecco lei mi ha fatto capire tanto l'importanza di alcuni dettagli e il collegamento fra il piccolo e il grande fra possiamo dire l'inezia di una nota o di un segno e l'interpretazione generale addirittura di una sonata di un pezzo oppure di un modo di concepire la frase musicale o un tema o una modulazione o un cambio di scrittura quindi questioni grandi fondamentali sostanziali che a volte venivano innescate dentro di noi nella nostra riflessione dall'osservazione di un piccolissimo particolare adesso però voglio solo ricordare per chi non lo sapesse che quando l'edizione critica Scarlatti a cura di Emilia Fadini è iniziata negli anni settanta c'erano alcune fonti settecentesche che ancora non erano state scoperte o valutate sufficientemente quindi quando Emilia Fadini è partita sostanzialmente la sua visione delle cose era fondata su questo binomio i manoscritti veneziani e quelli di Parma i manoscritti veneziani in una visione che risaliva Kirkpatrick erano per lei i fondamentali e lo sono sempre rimasti nella sua visione noi sappiamo che per alcuni studiosi e musicologi a partire da Shevelof e andando poi avanti con altri in realtà la posizione dei manoscritti parmensi è stata ritenuta preeminente rispetto a quella dei manoscritti veneziani Emilia Fadini si è trovata spesso poi più avanti a riflettere su questa questione che però per lei non si è mai rovesciata per lei l'impostazione era i manoscritti conservati dalla biblioteca marciana di Venezia sono la fonte più cospicua in termini di autorevolezza e quindi l'edizione va condotta su quella in sostanza l'edizione critica ricordi è condotta in primissimo luogo sulle fonti veneziane cioè sulle fonti conservate a Venezia e quindi i volumi 1, 2, 3, 4 eccetera fino al 9 e 10 di questa edizione sono condotti in ordine sui manoscritti veneziani solo che è stato lasciato come decimo e ultimo scusate il manoscritto che cronologicamente in realtà non è l'ultimo affatto e sono gli esercizi per gravi cembalo 1739 questa importantissima raccolta da un punto di vista proprio della fonte originaria in realtà è precedente rispetto agli altri che sono datati dall'inizio degli anni 40 alla metà circa degli anni 50 del 700 quindi dal 1742 al 1757 esercizi per gravi cembalo 1739 dovevano essere considerati per primi invece no perché no perché questa era un'edizione mentre gli altri che ho citato erano semplicemente dei volumi manoscritti erano delle fonti che erano prodotte come copiatura in bella negli ambienti della casa reale spagnola che probabilmente per uso interno probabilmente per una conservazione in bella coppia di questi preziosi testi musicali di Scarlatti aveva negli anni 50 prodotto questa serie di codici meravigliosi che sono sono stati per fortuna conservati la storia poi della conservazione adesso la tralascio molti la conoscono bene ma il fatto è che nell'edizione ricordi l'idea era presentare prima i manoscritti poi le edizioni quindi per questo motivo il volume 10 presenta gli esercizi per gravi cembalo che cronologicamente da un punto di vista generale sono in realtà precedenti poi dovremmo discutere la questione ma quindi il volume 10 presenta le sonate più antiche di Scarlatti no la risposta è no se dobbiamo metterla in senso così semplice in senso molto semplificato no perché in realtà le sonate presenti nei codici copiati fra gli anni 40 e 50 sono sonate che si riferiscono sia alla giovinezza di Scarlatti sia alla maturità anche degli ultimi anni quindi la ricostruzione cronologica delle sonate di Scarlatti è una questione spinosissima su cui si sono esercitati molti musicologi con risultati alterni e sempre molto dubbiosi quello che noi possiamo dire è che comunque l'edizione Ricordi presenta un ordine che è logico per quanto riguarda la fattura materiale delle fonti spagnole settecentesche e invece dubbiosa e problematica se dobbiamo considerare la cronologia delle sonate questo lo dico perché magari non tutti hanno dimestichezza con le questioni generali di come interpretare le sonate Scarlattiane da un punto di vista anche della loro genesi ma se noi andiamo nell'ordine dei dieci volumi ricordi dall'uno al dieci quello che si può dire è che non abbiamo una precisa ricostruzione cronologica che è una ricostruzione ancora basata su ipotesi ancora incerta dubbiosa possiamo però dire una cosa nei primi tre volumi ricordi molto probabilmente abbiamo una buona parte delle sonate più arcaiche nei volumi che vanno dal 4 al 9 molto probabilmente abbiamo una buona parte delle sonate dovute all'epoca della maturità di Scarlatti nel volume 10 abbiamo invece quella raccolta particolare che sono gli esercizi per Gravi Cembalo che sono sonate sicuramente composte al più tardi alla fine degli anni 30 e che in parte rifanno e ricostruiscono il testo musicale di pezzi giovanili adesso però questa questione la affronterò fra un attimo in maniera un pochino più specifica ancora perché può essere interessante sapere come Scarlatti è intervenuto in epoca più matura se parliamo del 1736 37 38 39 stiamo dicendo di un compositore poco più che 50enne e questo compositore 50enne è molto molto probabile da tantissimi indizi che sia intervenuto sui testi della sua giovinezza su testi prodotti probabilmente intorno ai 25 30 anni quindi di parecchi anni precedenti e in alcuni casi ci sono testimonianze molto precise di ritocchi anche molto grandi che Scarlatti ha effettuato nei confronti di sonate sue precedenti esistenti già da tanti anni dopo vi faccio un paio di esempi così possiamo vedere e conoscere un aspetto di questa ricostruzione del testo che pone davvero tantissime questioni spinose Marco sei libero di condividere documenti ti abbiamo dato l'accesso per cui d'accordo certo certo bene grazie infatti fra poco pensavo magari di mostrare qualche pagina qualche esempio senza complicare troppo il discorso però qualcosa può essere interessante volevo finire velocemente la questione di quali erano le fonti per Emilia Fadini importanti beh lei vedeva Venezia in primissimo luogo i manoscritti della Biblioteca Marciana oltre che poi l'edizione degli esercizi per Gravi Cembalo sempre conservata a Venezia almeno una coppia una delle coppie più note i manoscritti conservati a Parma come una seconda fonte autorevole che però nella sua visione che derivava appunto ripeto da Kirkpatrick era la seconda in ordine di importanza ma comunque molto importante e poi c'era il binomio che lei citava spessissimo io ho parlato con lei tantissime volte di questa questione delle più tarde coppie conservate a Münster e a Vienna ora quanti anni ho passato io pur essendo arrivato tardissimo già ricordo di anni passati con Emilia Fadini a parlare della questione del testo di Münster e di quello di Vienna rispetto ai codici veneziani e parmensi posso solo riassumere una questione che è veramente molto grande diciamo che Emilia Fadini ha sempre considerato questi più tardi codici Münster e Vienna come in gran parte frutto di una rielaborazione erronea del testo scarlattiano era molto critica e molto scettica nei confronti delle versioni di Münster e Vienna solo pochissime volte lei ricostruendo una sonata si è convinta che una versione per esempio di Münster fosse importante però io devo segnalare il fatto che fra gli anni 70 e oggi la musicologia ha riscoperto delle parti o rivalutato parti già note dei manoscritti conservati a Münster e questa parte dello studio musicologico a volte Emilia Fadini non lo conosceva io mi sono trovato a volte a dover parlare con lei di queste questioni ma più o meno dalla fine degli anni 90 in poi Emilia Fadini non era più tanto disposta ad aggiornarsi sugli ultimi risultati della ricerca musicologica era molto stanca e anche critica nei confronti i musicologi quante volte le ho sentito dire ma vadano al diavolo i musicologi non ne posso più perché tante volte effettivamente i musicologi le avevano messo il bastone fra le ruote per nulla impropriamente e quindi io potevo capire questo suo risentimento che però era in parte anche un'occasione sprecata per lei perché magari negli ultimi anni la ricerca di Emilia Fadini mancava in parte di aggiornamento anche se era sempre illuminata tantissimo dalle sue grandi conoscenze dai suoi studi che nel caso di Scarlatti erano molto approfonditi per quanto riguarda tutta la ricerca fino agli anni 80 quindi bisogna tener presente che l'edizione fadiniana delle sonate di Scarlatti risente un pochino anche di questa questione grande aggiornamento fino agli anni 80 poi un periodo via via sempre più approfondito di stanchezza che l'ha portata anche a rifiutare un pochino i risultati della musicologia o più che altro a disinteressarsi un pochino quando mi ha conosciuto e ha visto che io ero interessato invece agli ultimi risultati della ricerca musicologica ha detto beh te ne occupi tu mi fido vai tranquillo e se hai da dirmi qualcosa me lo dici io cambio opinione fidandomi di te se c'è da correggere una mia visione che era incompleta e mi aveva in pratica delegato questa parte di studio degli ultimi degli ultimi studi scarlattiani delle ultime pubblicazioni delle ultime monografie delle ultime ricerche che poi a volte sono in parte in riviste in parte volumi moltissimi in inglese alcuni quasi introvabili eccetera però con un po' di sforzo spesso sono riuscito e poi anche ho condiviso con Emilia Fadini alcuni risultati della ricerca musicologica che per esempio per dirne una rivalutava pienamente l'importanza di alcuni soltanto dei manoscritti di Münster alcuni di questi manoscritti sono coevi alle coppie di quei codici conservati a Venezia e Parma e in realtà già per la loro datazione le versioni di Münster sto dicendo solo di alcuni volumi però sono decisamente autorevoli e importanti poi devo dire per esempio che altre fonti spagnole che quando Emilia aveva iniziato la sua edizione critica erano pochissimo note o del tutto sconosciute sono diventate poi importanti per esempio per le due fonti conservate a Barcellona una delle due fino a pochi anni fa era sostanzialmente ignota e poi è entrata in gioco nel lavoro filologico di ricostruzione dei testi moltissimo già per il volume 9 e poi anche per il volume 10 le fonti conservate a Saragossa per esempio sono molto importanti ma fino a pochi anni fa non erano note assolutamente poi ne dico un'altra importantissima le edizioni francesi settecentesche delle sonate di Scarlatti cioè le famose edizioni Boisven che sono vari volumi controversi perché in parte si contraddicono a vicenda io ho dedicato qualche anno di studio queste edizioni e ho forse ricostruito una cronologia più esatta dei loro rapporti ho scoperto che un volume ha copiato e alterato un altro volume delle stesse edizioni Boisven sono andato a fondo perché queste edizioni francesi del settecento riguardano molto le sonate del volume 10 di Ricordi quindi gli esercizi per Gravicembalo ecco per esempio l'edizione Boisven era stata un po' snobbata da Emilia Fadini all'inizio poi si è dovuta ricredere e insieme abbiamo molto approfondito la questione mentre invece Emilia da sempre giustamente dava molta importanza l'edizione Rosengrave che sappiamo per gli esercizi per Gravicembalo è decisiva quindi questo quadro che ho delineato non voglio ulteriormente complicarlo chi è interessato può andare a leggere la mia introduzione al volume 10 che è un po' un saggio che fa il punto della situazione nei confronti delle fonti bene è un quadro che delinea una grande complessità nelle fonti settecentesche se poi ci aggiungiamo anche le edizioni dell'ottocento le alterazioni più o meno evidenti nell'edizione per esempio di Cerni del 1839 poi andiamo avanti alle edizioni successive arriviamo fino a lungo abbiamo allora un panorama vastissimo di varianti di trascrizioni di revisioni di correzioni che danno al testo di Scarlatti nella storia uno spessore incredibile dopo magari faccio un esempio perché come diceva stamattina qualcuno di voi scusate non mi ricordo esattamente chi adesso ho dimenticato ma forse era sempre non ricordo se Farolfi o Carrerra ancora che ho sentito che dicevano che per Emilia Fadini per esempio l'edizione Longo non era affatto da sottostimare anzi era un'edizione da valutare nella sua importanza storica ecco a me è capitato con lei di ragionare così per esempio anche sull'edizione Cerni della prima metà dell'Ottocento l'edizione Cerni è un'edizione lontana da noi condotta con criteri che oggi non approviamo più dal punto di vista filologico con tanti piccoli arbitri con tante piccole distorsioni eppure andando a fondo nella ricostruzione di un testo di una sonata sembra strano ma Cerni è ancora prezioso perché Cerni vedeva le cose nella prospettiva di un musicista che era vicino cronologicamente a Scarlatti non dobbiamo dimenticarci erano passati pochi decenni dalla morte di Scarlatti e vedeva le cose in una maniera che era comunque peculiare di una certa fase storica quindi certo non era più l'epoca di Scarlatti però era molto più vicino di come siamo noi oggi a Scarlatti e quindi vedeva alcune cose che si riflettono nella sua edizione se andiamo indietro ancora Clementi con la sua proposta di alcune sonate scelte di Scarlatti Muzio Clementi stiamo parlando di un di un grande musicista e pianista che è vissuto fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento beh anche Clementi ci dà degli spunti preziosi pur nei suoi travisamenti pur nei suoi fraintendimenti ecco allora si può dire altro andando indietro ancora per esempio le sonate scelte di Pittman un musicista e clavicembalista inglese che pochi anni dopo la morte di Scarlatti negli anni settanta e ottanta del Settecento aveva proposto alcune sonate di Scarlatti in parte ritoccandole sicuramente tradendo in parte il testo di Scarlatti perché tentava di semplificarlo ma anche lì si scoprono cose preziose questo atteggiamento di rivalutazione delle vecchie edizioni quelle anche più diciamo scorrette dal punto di vista filologico è stato uno dei tanti grandi segnamenti di Emilia Fadini mai sottovalutare l'importanza della cultura nel recepire un importante lascito artistico come sono le sonate di Scarlatti quindi mai sottovalutare il fatto che ogni epoca può leggere queste sonate in un certo modo e lasciare traccia della propria cultura del proprio sapere della propria capacità interpretativa e analitica nei confronti di quei testi perché non è che la musica dell'Ottocento sia più scadente di quella del Settecento o viceversa non ha nessun senso ragionare in questi termini le sonate di Scarlatti vanno capite in primo luogo nel loro contesto originario che è la musica del primo Settecento la musica italiana e spagnola di quegli anni la biografia e la vita l'esistenza i rapporti lavorativi di Domenico Scarlatti ma poi ci sono le sonate che vivono dopo Scarlatti e quindi un percorso di riappropriazione che tanti musicisti anche sapienti tanti musicisti anche colti hanno fatto per rileggere per mettere a disposizione per diffondere per divulgare per valorizzare l'opera di Scarlatti quindi mi è rimasto da Emilia Fadini anche questo insegnamento che è quello di non essere troppo giudicante non essere troppo tranchant di non avere la mano pesante nei confronti di testimonianze che comunque possono essere preziose questo ha fatto sì che a volte certi dettagli delle edizioni tardo settecentesche inizio ottocentesche ci abbiano dato degli spunti di riflessione filologici direi veramente molto interessanti adesso se non ci sono domande particolari anche su questa panoramica generale che ho fatto sulle fonti che sicuramente è solo come dire una velocissima velocissima introduzione se non avete questioni particolari io vi presento solo qualche esempio che ho scelto fra i tanti possibili esempi che si possono fare per fare un po' capire l'atteggiamento di Emilia Fadini quando ha iniziato a pubblicare le sonate di Scarlatti alcuni tratti caratteristici che voglio condividere con voi e magari anche sottoporre la vostra attenzione per vedere se qualcuno ha da dire qualcosa di interessante o di suggestivo su questi piccoli spunti che adesso io sto per proporre dunque una questione che sicuramente ha creato una grandissima differenza fra l'edizione Longo del primo novecento e l'edizione Fadini del tardo novecento è la questione della collocazione delle note nei pentagrammi è chiaro che questa questione è una questione che noi oggi possiamo possiamo capire con una certa visione più larga del testo musicale nel senso che sono passati tanti anni e noi abbiamo tanti tipi di esperienze che si incrociano in più rispetto a un secolo fa però voglio inizialmente parlare di proprio di una questione materiale molto diretta molto semplice ma dove vanno collocate le note su quali pentagrammi come vanno distribuite nello spazio le note bene sembra strano ma prima di Emilia Fadini questa cosa quando io l'ho capita veramente ho fatto un salto sulla sedia ho detto ma com'è possibile ma sembra davvero stranissimo ma prima di Emilia Fadini nessuno aveva pensato di distribuire le note nella pagina come era nei manoscritti settecenteschi e soprattutto quelli spagnoli e soprattutto quelli più vicini a Scarlatti potremmo dire beh certo era una scrittura antica oggi c'è la scrittura moderna noi siamo abituati a quella moderna usiamo quella di oggi tanto ci capiamo benissimo no Emilia ha detto no attenzione perché questa era l'idea di ricordi in origine noi modernizziamo la scrittura tanto è la stessa cosa e lei ha detto no assolutamente non è la stessa cosa prima di tutto ad esempio poniamo una questione semplicissima ma queste note adesso vi faccio vedere un esempio ma queste specifiche note di un esempio che veniva in quel momento discusso le deve eseguire la mano destra o la mano sinistra dell'esecutore beh molto spesso Scarlatti non lo dice perché è l'esecutore che sceglierà e anche questa è una parte di quella indeterminatezza a cui Emilia Fadini teneva molto ma perché dobbiamo decidere noi addirittura al posto di Scarlatti che quelle specifiche note vanno eseguite con la mano sinistra ma perché mai ma Scarlatti lo ha scritto no Scarlatti ci ha lasciato un segno inequivocabile che in quel punto in quella battuta quel gruppo di note va suonato con la mano sinistra a volte sì in alcuni casi ma molte volte no quindi se Scarlatti non lo ha scritto questo segno se non ha distribuito nelle mani le note perché lo dobbiamo fare forzatamente noi in quel punto ci può essere l'indeterminatezza del lasciare la scrittura settecentesca che in realtà è molto libera e che suggerisce ad ogni esecutore di fare un po' come gli pare trovando le soluzioni più adatte quindi in definitiva quale è stato il ribaltamento di prospettiva che ha operato Emilia Fadini dunque il do centrale il do tre diciamo in Italia poi gli americani gli inglesi i tedeschi dicono in altro modo il do tre il do che sta a metà strada fra la chiave di violino e la chiave di basso per intenderci è lo spartiacque fra il pentagramma superiore e quello inferiore punto fine fra i due pentagrammi non si usano tagli addizionali che invece sono così in voga nella scrittura ottocentesca e che Alessandro Longo ha usato così con enorme abbondanza e dopo di lui anche altri fino a Gilbert negli anni 70-80 apro una piccola parentesi le sonate nell'edizione Gilbert edizione francese importantissima quasi parallela a quella Fadini sono oggi per quello che mi risulta addirittura più diffuse rispetto all'edizione Fadini ho conosciuto musicisti molto esperti di Scarlatti che fondamentalmente usano solo l'edizione Gilbert però l'edizione Gilbert ma non lo dico per presa di posizione nazionalistica oppure perché io ho collaborato all'edizione Scarlatti ma assolutamente no ma l'edizione Gilbert è molto più superficiale rispetto all'edizione Fadini non c'è proprio paragone dopo posso parlare di molti dettagli a partire dal fatto che nell'edizione Gilbert non c'è in pratica l'apparato critico non si dà conto di molte scelte editoriali si ripristinano gravi errori contenuti nelle edizioni Cerni e Longo per questi e molti altri motivi l'edizione Gilbert è molto molto meno affidabile dell'edizione Fadini questo lo posso dire con assoluta certezza eppure oggi nel mondo è molto più diffusa l'edizione Gilbert rispetto a quella Fadini chiudo questa parentesi un attimo poi se volete qualcuno magari se la vuole riaprire ben volentieri ritorno alla questione dei tagli addizionali allora vi faccio vedere adesso fra poco condivido il mio schermo e vi faccio vedere uno dei tanti esempi che ci possono illustrare e chiarire come sia avvenuto il cambio di prospettiva di Emilia Fadini lei ha osservato giustamente ma questa è stata un'osservazione che non si deve a lei nel senso lei non ha fatto altro che prendere atto di una cosa che tutti i conoscitori della musica settecentesca già sapevano e cioè del fatto che molto spesso il musicista del settecento e dobbiamo dire in particolare in Spagna questo veniva fatto quasi sempre negli anni di Scarlatti quando deve scrivere sui due pentagrammi per suonare alla tastiera non prende una decisione su quali mani devono suonare quali note a meno che ci sia la questione degli incroci delle mani allora quando c'è la questione dell'incrocio molto spesso Scarlatti come tanti altri scrive noi sappiamo che Scarlatti è un grande amante degli incroci allora sappiamo che in molti casi lui scrive qui va la mano sinistra allora ci suggerisce un incrocio per alcune sonate addirittura è quasi una presa di posizione provocatoria chi non ricorda magari la sonata K29 che è tutta ad incrocio ed è una provocazione nei confronti degli interpreti che devono suonare tutto con le mani incrociate quando si potrebbe in teoria suonare benissimo senza l'incrocio e sarebbe molto molto più semplice allora questi sono casi estremi ma ci sono in realtà tantissimi passaggi dove giustamente Scarlatti come quasi tutti i musicisti dell'epoca non scriveva qui va eseguito con la mano sinistra qui con la mano destra ma dopo più tardi soprattutto nell'ottocento e oltre anche nel novecento noi siamo soliti vedere edizioni di musica tastieristica che ci dicono quale mano deve eseguire una parte quando l'autore in realtà soprattutto se si tratta di autore pre-romantico o meglio ancora pre-classico l'autore non lo diceva ecco allora adesso faccio degli esempi che ci fanno vedere come a volte noi ci siamo abituati per così per consuetudine per comodità per pigrizia perché ci hanno sempre offerto questi tipi di trascrizioni ci siamo abituati tanto o più o meno dipende anche da quale formazione abbiamo di quale repertorio abbiamo suonato letto analizzato però mediamente siamo tutti un po' abituati a quest'uso ottocentesco del taglio addizionale fra i due pentagrammi e invece a quanto pare per quello che si sa non sono certezze assolute ma relative sono quasi certezze a quanto pare Scarlatti non metteva mai i tagli addizionali fra i due pentagrammi quindi se la mano sinistra doveva suonare sopra al do centrale bene suonava sopra al do centrale ma non è che allora quelle note dovevano essere scritte nel pentagramma inferiore con il cambio di chiave oppure quelle note che salgono sopra al do centrale venivano scritte tutte con i tagli addizionali per dire queste le esegue la sinistra quindi vi faccio vedere adesso un paio di esempi scusatemi solo un secondo che mi organizzo nella condivisione dello schermo sono esempi semplicissimi anche banali se vogliamo cose cose minime però interessanti sempre che ci fanno vedere come a volte quello a cui noi teoricamente siamo già abituati è in parte assurdo l'esempio che più mi ha colpito che ho riportato anche in un mio articolo era l'inizio della sonata K84 dove noi troviamo nel manoscritto più arcaico della serie dei codici veneziani quindi il manoscritto Venezia il quattordicesimo volume ossia Venezia 1742 noi troviamo l'incipit della sonata K84 che sarebbe semplicemente una delle sonate di questo codice tutti sappiamo che c'è la catalogazione Kirkpatrick Longo ma anche quella Fadini sarebbe meglio dire semplicemente Venezia 1742 e questa è la sonata 49 di quella raccolta bene ci troviamo di fronte a uno di questi tipici casi in cui probabilmente un arpeggio deve essere fatto dalla mano sinistra ma va anche sul pentagramma superiore normalissimo scusate condivido lo schermo adesso arrivo subito ecco qua e vi chiedo di dirmi magari me lo dice Carlo Giorgio non so qualcuno mi dica se si vede bene così so si vede si vede bene si vede bene ok posso ingrandire un pochino l'esempio musicale così magari si vede un pochino meglio però credo a questo punto che tutti leggiamo abbastanza tranquillamente assolutamente allora noi abbiamo di fronte questo semplice incipit con un arpeggio nelle prime due battute sale e scende si ripete lo stesso tipo di arpeggio nella terza e quarta battuta sale e scende è molto semplicemente una triade di do e non c'è niente di strano in questa scrittura che cosa abbiamo di strano una battuta di tre quarti la musica delle prime due battute in pratica viene riproposta a un'ottava sotto nelle successive due battute ecco sarebbe tutto tranquillo se non fosse che normalmente poi viene trascritta in un modo curioso e questo lo sto dicendo pre Emilia Fadini allora come viene trascritta viene trascritta per esempio così questa è la trascrizione di longo ora questa è una scrittura che è tipicamente quando l'analizziamo con calma ci rendiamo conto che è assurda perché qui Longo ha voluto dirci attenzione l'arpeggio delle battute tre e quattro lo deve fare per forza la mano sinistra quindi anche a costo della morte le note della battuta tre e quattro non verranno scritte in chiave di violino la morte a cui mi sto riferendo metaforica sono i tagli addizionali infiniti che lui ci presenta a battuta quattro ne abbiamo uno due tre e quattro tagli addizionali che costringono un pentagramma superiore a spostarsi moltissimo verso l'alto per niente perché la scrittura che ci presentava manoscritto conservato oggi a Venezia era in realtà molto più chiara qui va bene adesso questo è un esempio banale tutti i musicisti esperti dopo un'occhiata istantanea se per caso non conoscevano la sonata vedono che è un semplice arpeggio di do d'accordo tranquillo non c'è nessun problema per carità però perché rendere la scrittura musicale più complicata poi ci sono le questioni che adesso non voglio aprire ma i musicisti conoscono quindi penso la maggioranza di voi già conosca cioè la questione dell'aggiunta dei puntini di staccato la questione dell'accento aggiunto da lungo la questione del forte il metronomo aggiunto all'inizio il metronomo 152 ecco quello che infastidiva tantissimo Emilia Fadini a volte mi sono trovato a parlare con lei di metronomi però era infastidita da questa indicazione metronomica ma giustamente perché che bisogno c'è di mettere il metronomo fra l'altro per un repertorio pre-metronomo che sappiamo bene che il metronomo è stato inventato dopo l'epoca di Scarlatti è stato utilizzato dopo certo può avere un senso per uno studio può avere senso in sede didattica per un certo tipo di esercizio non può avere un senso per una considerazione interpretativa ad ampio raggio è insensata però l'edizione lungo ricordiamocelo si poneva con obiettivi abbastanza ambiziosi e alti era un'edizione seria delle sonate di Scarlatti non era un'edizione pratica così qualunque era l'edizione più completa possibile di tutte le sonate di Scarlatti secondo le fonti allora note quindi non si trattava di una banalità ma questioni come il metronomo i segni di staccato e secondo me ancora più grave i tagli addizionali delle battute 3 e 4 rendono questa scrittura oggi di fatto inutilizzabile ecco perché va benissimo il rispetto per Longo ottimo parlare di rispetto del documento storico che questa edizione Longo rappresenta come tante altre giustissimo anche dire che l'edizione di Emilia Fadini ha ampiamente superato molte questioni arbitrarie e possiamo dire tranquillamente erronee della trascrizione di Longo adesso sotto vi faccio vedere che qui sono sono passato invece alla trascrizione di Gilbert che invece ci presenta un altro atteggiamento tipicamente ottocentesco e inizio novecentesco cioè il fatto che in queste quattro battute noi abbiamo l'arpeggio della battuta sempre 3 e 4 che viene suddiviso in due chiavi nel pentagramma inferiore spero che lo vediate tutti bene qui c'è una chiave di violino al pentagramma inferiore perché le note salgono in alto quindi Gilbert dice si uso la chiave di violino non però al pentagramma superiore attenzione no perché siccome lo deve eseguire per forza alla sinistra lo tengo tutto nel pentagramma sotto e cambio la chiave al pentagramma sotto ora apro una piccolissima parentesi su questa questione in realtà nell'epoca di Scarlatti si scriveva anche così perché io l'ho trovato molto per esempio nei manoscritti francesi che tramandano le sonate di Scarlatti molto spesso nei manoscritti francesi o anche nelle edizioni Boisven ma devo dire il caso più clamoroso è quello del grande manoscritto confuso problematico controverso ma molto molto affascinante conservato alla biblioteca dell'Arsenal di Parigi che conserva molte sonate di Scarlatti probabilmente anche in versione più arcaica e possiamo dire forse una cosa che secondo me è abbastanza interessante cioè che Scarlatti probabilmente da giovane o forse in un certo ambito di sonate utilizzava una scrittura simile a questa cioè cambiava chiave all'interno di uno stesso pentagramma in sostanza questo banalizzando un po' la questione chiavi naturalmente che sono anche chiavi di Do non solo chiave di Sole chiave di Fa anche chiave di Do ma poi più avanti Scarlatti ha un po' ripulito la sua scrittura e non avrebbe poi più utilizzato questa che considerava più confusa Enrico Baiano ha alzato la mano sì volevo solo far notare che in effetti questa scrittura è una filiazione tardiva della tipica intavolatura italiana seicentesca sì che appunto assegna all'octogramma del rigo di sotto tutte le note della sinistra e all'esagramma del rigo di sopra quelle della destra senza preoccuparsi molto dell'eventuale confusione che deriva per la lettura della polifonia perché ovviamente per loro era abbastanza ovvio quindi in effetti la scrittura riportata da Gilbert che tu giustamente dici si ritrova poi in Boivin e in altri in Rosengrave è in effetti ancora inserita in quel filone e che poi evidentemente Scarlatti ha superato certo è proprio così Enrico grazie ti ringrazio molto di questa osservazione perché fra l'altro mi permette di dire una cosa su cui non mi soffermo perché è una cosa molto ampia l'accenno soltanto lavorando a questi due volumi il 9 e il 10 delle edizioni Ricordi io sono arrivato automaticamente a capire alcuni aspetti dell'evoluzione dello stile di Scarlatti è molto delicata e spinosa questa questione ma fra le cose che ho capito molto chiaramente confrontando una fonte con l'altra c'è fra l'altro il fatto che uno Scarlatti più arcaico utilizzava una scrittura di questa tipologia quindi diciamo di derivazione dall'intavolatura uno Scarlatti più maturo e più convinto delle proprie scelte stilistiche utilizzava invece la scrittura che abbiamo visto prima nell'esempio del codice veneziano e che quindi adesso arriviamo all'edizione Fadini è stata giustamente mantenuta da Emilia Fadini eccolo qui allora l'esempio spero che lo vediate tutti questo è l'incipit della stessa sonata in Do minore K84 Venezia 1742 sempre l'esempio di prima ma cosa ha fatto Emilia Fadini sostanzialmente ha mantenuto la scrittura scarlattiana con adesso ritorno su e vi faccio notare guardate qui c'è la scrittura del codice veneziano c'è solo una cosa che Fadini non ha mantenuto e questo faceva parte un po' delle richieste dell'editore ricordi all'inizio guardate il Mi 3 della battuta 3 in Venezia 1742 è coerentemente con le scelte al pentagramma superiore prima linea nell'edizione Fadini è invece scusate adesso adesso ci ritorno ecco qui Nell'edizione Fadini invece è una deroga al principio di conservazione delle scelte di scrittura spagnole cioè qui ha messo i tagli addizionali solo per questa nota solo per questo Mi 3 io avevo saputo dalla stessa voce di Emilia Fadini che queste erano scelte che lei non approvava del tutto ma erano state un po' imposte per non esagerare diciamo così nel mantenere le usanze di scrittura di una certa fase della sonata settecentesca scarlattiana e quindi non imporre al lettore di fine novecento una visione troppo settecentesca diciamo per così dire troppo arcaica di questi testi quindi sembra strano ma all'inizio lei ha dovuto adattarsi al fatto ogni tanto di derogare da questa sua scelta generale però vedete che in sostanza al novantanove per cento quello che propone qui l'incipit di questa sonata nell'edizione Fadini è quello che noi leggiamo nella nell'incipit di Venezia 1742 adesso c'è un altro piccolo dettaglio di cui voglio parlare brevissimo e così poi dopo magari lascio spazio ad interventi perché in realtà di cose da dire ne avrei tantissime ma non possiamo esagerare non possiamo dilungarci troppo allora vi faccio notare che qui c'è l'armatura antica con i due bemolli spero che possiate vederlo ma questa sonata nella versione del codice conservato a Venezia ha il si e il mi bemolle mentre invece poi sia Longo sia Gilbert e in questo caso anche Fadini mettono il terzo bemolle in chiave cioè modernizzano l'armatura di chiave e io ricordo un momento in cui finito il volume nove ricordi ho parlato con Emilia Fadini del lavoro al volume dieci che lei aveva detto guarda lo fai tu perché non ce la faccio più dico proprio sinceramente sono esausta quindi te lo affido completamente lavoraci tu e poi io farò una supervisione bene io le ho detto guarda che ho sentito che i responsabili di Casa Ricordi sarebbero disposti a conservare le armature antiche cioè per esempio con un bemolle in meno e che si può anche diciamo rispettare questo dettaglio della scrittura arcaica e Emilia non credeva questa cosa ma no non è possibile assolutamente mi hanno sempre detto di no mi hanno fatto delle storie tremende ci ho litigato per mesi così allora poi un giorno abbiamo approfondito la questione siamo andati a parlare anche per altri motivi con i responsabili di Casa Ricordi in uno degli ultimissimi incontri che abbiamo avuto sia lei che io a Milano e effettivamente ricordi i nuovi responsabili dell'edizione che naturalmente non erano più quelli di tanti anni precedenti hanno detto no no ma tranquillamente usiamo le armature antiche arcaiche difettive o comunque varie perché sicuramente è il rispetto di un principio di trascrizione il più possibile fedele e quindi va benissimo per esempio che una sonata di questo tipo venga trascritta con i due bemolli come del resto si fa in tante edizioni critiche di Bach e di altri autori oggi è abbastanza normale vedere un'edizione critica in cui c'è un do minore con due bemolli e così via per altre scale minori o per altri casi simili però per tanti anni a Emilia Fadini è stato impedito di adottare questo principio perché si voleva almeno in parte modernizzare almeno in parte rendere la lettura per lo studente che non fosse troppo specializzato e che dovesse leggere queste sonate magari solo per scopi di studio molto rapido non troppo approfondito si voleva rendere un po' la vita più facile per così dire e quindi qualche taglio addizionale a metà fra i due pentagrammi qualche segno che familiarizza in senso ottocentesco la scrittura scarlattiana le armature di chiavi moderne quindi ancora una volta ottocentesche e certe piccole deroghe per esempio alla scrittura degli accordi e qui adesso interrompo un attimo la condivisione e accenno soltanto a questo problema ma voi sapete che gli accordi in senso di scrittura verticale per i copisti spagnoli discarlatti erano in pratica sempre scritti contrapuntisticamente quindi se c'erano tre note in verticale venivano scritte ciascuna nota con la sua gamba specifica e autonoma questa specie di scrittura contrapuntistica anche quando si trattava di una scrittura puramente accordale è sempre mantenuta nei copisti spagnoli e Emilia Fadini ha dovuto faticare tanto per imporre a casa ricordi questo tipo di scrittura che infine si è imposta nell'edizione ricordi ma inizialmente no quindi si faceva qualcosa che era più simile all'edizione di Kirkpatrick cioè un po' si rispetta la scrittura del settecento un po' non la si rispetta perché non è così strettamente necessario questo comunque ci fa capire una problematica di fondo delle edizioni critiche molto spesso l'edizione critica nonostante tantissimi criteri rigorosi posti inizialmente è anch'essa un compromesso fra tante scelte complicate che pongono al revisore una serie infinita di questioni che non sto ad elencare adesso però la sintesi può essere questa dobbiamo evitare di pensare che un'edizione critica sia perfetta o completa o rigorosa al cento per cento perché molto spesso non lo può proprio essere le questioni in gioco sono talmente tante la scrittura musicale è così raffinata così eccentrica così eclettica così strana che tante volte il revisore deve fare una scelta perché fra l'altro si nota spesso in uno stesso codice e quindi a volte si ricostruisce la volontà dello stesso autore di scrivere la stessa cosa in due tre quattro maniere diverse quindi noi oggi cosa dobbiamo fare trascrivere in due tre quattro modi diversi la stessa identica cosa molto spesso non si può perché si creerebbe troppa confusione nel lettore odierno però magari c'è anche chi in alcune edizioni critiche ha scelto di scrivere in due tre o quattro maniere diverse la stessa cosa per un rispetto assoluto forse addirittura eccessivo della scrittura così come compare nelle fonti più autorevoli ecco adesso mi fermo un attimo perché ho detto tante cose ho aperto tante questioni avrei sicuramente molti esempi da fare ma penso che le cose dette fin qui siano sufficienti per una prima panoramica di come Emilia Fadini si è spesa tanto davvero con grande passione in questa ricostruzione dei testi scarlattiani e lascio lo spazio per interventi commenti dei presenti che fra l'altro sono molti esperti e molti si sono scontrati con le questioni che ho accennato riguardo all'esempio di prima c'è Francesco Baroni ciao Marco Francesco notavo una cosa che forse non è riportata nell'edizione di Emilia che è la pausa della mano destra nella quarta battuta di questa sonata che hai fatto vedere la capo 84 certo certo nella mano destra c'è la pausa nell'originale e forse quello chiarisce che la mano destra è in pausa sì allora volete che riproietti questa cosa no no ma era solo perché sì se vuoi se non ti è difficoltà sì in effetti è una cosa un po' controversa perché se tu guardi la pausa la battuta 2 è scritta in maniera molto precisa sì mentre quella la battuta 4 non si capisce se è un puntino sì se è un puntino voluto così o magari una macchia io mi sono sempre chiesto la stessa cosa infatti è vero è verissimo volevo chiederla a Emilia ma mi sono sempre dimenticato alle volte a me è sembrato magari non è sempre così però che nel rigo di sopra quando c'è la pausa è quella a mano che è in pausa e quindi suona l'altra come nella seconda battuta la sinistra è in pausa puoi proiettarla di nuovo? sì la proietto di nuovo arrivo subito scusatemi dunque io penso che qui conti più ancora il confronto con le altre pause della stessa sonata e anche nello stesso manoscritto ci può dare una visione un pochino più precisa adesso aspettate un attimo che condivido ancora l'esempio così tutti lo riguardiamo allora eccolo qua eccolo qua in effetti si nota alla quarta battuta qui in alto si nota un segno che deve essere la pausa per la mano destra così come questo alla battuta 2 sarebbe la pausa per la mano sinistra sì ecco però i segni sono molto molto diversi effettivamente sono molto diversi questa sinceramente adesso io sto andando a memoria posso prendere velocemente il testo e dirvelo se volete vedo anche che Enrico Baiano si è alzato forse a prendere sì perché poi quella sonata qua mi sa che nella seconda parte riparte con degli arpeggi simili sì sì adesso lo prendo anch'io se mi aspettate un secondo prendo così parliamo un attimo di questa questione no ma era solo per una paginazione sì no ma è una questione molto interessante allora ecco ho preso ho preso al volo la coppia adesso vediamo se faccio più in fretta di Enrico Baiano ce l'ho davanti aperta ha fatto più in fretta lui eccola comunque l'ho aperta anch'io sì diciamo che effettivamente qui a battuta 4 si può anche vedere il segno di una pausa lì in alto perché poi c'è qualcosa di vagamente simile anche dopo quindi per esempio se noi guardiamo l'inizio della seconda metà della sonata si possono vedere delle pause più schiacciate più arrotondate più meno nette e che sembrano proprio effettivamente delle pause che sono simili a quella piccola pausa di battuta 4 quindi ci potrebbero tranquillamente essere gli estremi per dire qui hanno voluto segnare proprio la pausa per la mano destra non è affatto sicuro però non so chiedo anche l'opinione di Enrico Baiano che è sicuramente un esperto e ha studiato moltissime sonate di Scarlatti quindi non so se Enrico vuole dire qualcosa che aveva anche lui in mano scritto in mano no no figurati più esperto di te francamente non lo posso immaginare di la tua no no io confesso non ero andato a prendere ho preso adesso il facsimile prima ero andato a prendere il primo volume semplicemente quindi dunque aspetta un attimo che pagina è comunque io posso dire adesso da una da una visione sommaria di Venezia 42 che quella può essere tranquillamente una pausa sembra un po' strano è molto diversa dalla pausa di battuta 2 però può esserlo tranquillamente quindi vuol dire che c'è stata la preoccupazione di indicare che la mano destra è in pausa ma in ogni caso le note sono state scritte nel pentagramma superiore quindi sì poi dopo dire che per esempio io ho l'edizione spess che non riproduce i colori ovviamente le cose dell'originale ed è anche anche ripulito un po' secondo me il la fonte da qualche macchia e qualche cosa per cui per esempio nella sonata k87 che sarebbe la numero quella in siminore famosa insomma che ci piace tanto sì 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 è un punto dove dove io ho trovato che fosse un punto che è stato aggiunto a una nota per prolungarla era invece forse una macchia che non c'è è la numero 52 di Venezia Sì ed è esattamente la 1 2 3 la ultima battuta della prima parte che assomiglia a una battuta simile dell'ultima parte ma secondo me in questo caso in questo caso adesso non mi ricordo io ho avuto modo di vedere proprio di vedere la fonte nella sua interezza ci sono delle macchie però una di queste macchie mi sembra proprio un punto alfa diesis stiamo parlando della quart'ultima battuta della prima parte nel soprano sarà in programma questa sera addirittura una doppia proposta fisarmonicistica e cembalistica sì sarà protagonista un punto comunque generale è che la scrittura settecentesca è assolutamente coerente ed esaustiva per cui poi le scelte di modificarla come dire partirebbero dall'idea che c'è qualcosa da cambiare mentre invece è tutto essenzialmente preciso è ben definita questo è molto importante certo volevo ricordare anche il caso che molti musicisti conoscono per per essere stato discusso tanto della sonata K24 che è una delle più eseguite di Scarlatti in cui sorprendentemente nel pur accurato manoscritto esercizi per gravicembalo che però presenta qualche errore qua e là a un certo punto in un pezzo regolarmente in quattro quarti noi abbiamo una battuta da sei quarti tutti i copisti successivi e gli editori successivi si sono preoccupati affannosamente di correggere questa questione a un certo punto c'è proprio questa battuta da sei quarti che è a cavallo fra un sistema e l'altro quindi sembrerebbe che passando da un sistema all'altro cioè andando a capo ci si sia dimenticati di una stanghetta di battuta che poi è stata collocata erroneamente due quarti più in là quindi questo ha dato luogo ad una anomala battuta da sei quarti e quindi potremmo pensare è un errore ma c'è il fatto che lasciando le stanghette così come sono in realtà tornano meglio i conti sul finale della sonata io non vi sto a dire tutto il dispendio di interpretazioni fatte su questo dettaglio perché ne ho parlato a lungo anche con Emilia Fadini sono state fra le ultimissime cose che abbiamo discusso insieme nei appassionati di battiti condotti con lei a volte a tarda ora ma la cosa interessantissima di questo passaggio è che qui a prima vista noi abbiamo un errore puro e semplice una battuta troppo lunga due quarti in più passando cambiando sistema andando a capo si sono sbagliati invece poi ci sono dei motivi per dire che no è un errore voluto e la cosa bizzarra è che il manoscritto di Münster ha ricollocato le stanghette di battute cioè le ha riportate nella loro dimensione che dovrebbe essere corretta altri hanno aggiunto delle note o tolto delle note per far sì che i conti tornassero e la cosa che mi ha sorpreso ancora di più ne do conto nell'apparato critico del volume 10 è che Longo aveva aggiunto due quarti bellamente inventati da lui per far sì che quella battuta da sei diventasse da otto quarti e venisse divisa in due battute ha inventato lui una progressione armonica che fra l'altro francamente lo devo dire suona pochissimo scarlattiana e Gilbert 50-60 anni dopo ha ripreso Longo paro paro cioè un'invenzione di Longo e se volete l'ultimo tassello di questa cosa sorprendente è che oggi si ascoltano incisioni recentissime di questi anni della sonata K24 con i due quarti inventati da Longo chiaramente Emilia Fadini di fronte a queste cose mi aveva detto ma no ma assolutamente lasciamo la battuta erronea della versione esercizi pregravicembalo in sei quarti va bene così sappiamo quanto era appassionata delle indeterminatezze incertezze irregolarità beh questa l'ha esaltata no assolutamente lasciamo la battuta errata sei quarti va benissimo così e l'abbiamo lasciata nell'edizione critica infatti secondo me questa è una testimonianza di quella pratica amata da Scarlatti di rompere le simmetrie o in certi momenti di dare una spinta un'accelerazione per esempio anche in esercizi 17 dunque c'è un passaggio aspettate che eccolo c'è il passaggio tra la battuta tra la battuta 79 e 80 dove chiaramente ci dovrebbe essere un'altra battuta per concludere la frase in simmetria tant'è vero che nella fonte di Boivin VI c'è quella battuta e potrebbe essere una versione precedente dello stesso Scarlatti ma poi lui invece l'ha levata e quello è come un improvviso cambio di discorso come se qualcuno levasse la parola a qualcun altro esatto e secondo me è molto più bello così come nella 24 è molto più bello questo fatto di questo improvviso accorciamento quindi infatti io l'ho sempre considerata non una battuta di sei quarti ma una improvvisa battutina di due quarti e poi si va avanti e torna i quattro quarti della battuta dopo ed è un procedimento tipico io a questo proposito ho discusso anche c'è quel signore canadese che da 30 anni in qui nel web copiando tutta la musica possibile mettendola online copiando a casaccio io gli ho detto scusi ma lei copiando questo intanto si rende conto che ci sono persone che hanno trascorso mesi per stabilire il testo di una sonata e lei in un attimo leva valore completamente a questo lavoro ma lei soprattutto mette in rete versioni non corrette o comunque non corredate di una discussione per esempio allora ho fatto l'esempio proprio di esercizi 24 e 17 e lui mi ha detto ah mi ha scritto guardi io sono tanti anni che copio musica antica e queste cose mi sembravano necessarie per ristabilire la simmetria a quel punto mi sono arrabbiato e gli ho scritto e lei crede di sapere che Scarlatti voleva o non voleva la simmetria cioè lei ha riaggiustato quello che Scarlatti voleva perché allora non ha pubblicato un'edizione cartacea in 11 volumi invece di fare questo e ci fa una bella disanima e discussione delle fonti grazie Enrico per queste osservazioni che fra l'altro mi permettono di dire anche un'altra piccola cosa che rischiavo di tralasciare la dico perché magari c'è qualcuno che eventualmente non sa questa cosa oppure qualcuno che ascolterà questa breve nostra discussione e che potrà prendere spunto magari da questa cosa volevo far notare che nel volume 10 dell'edizione critica Scarlattiana Ricordi quindi l'ultimo volume uscito prima non avevo aggiunto che ci sarà un volume 11 prossimamente che raccoglierà le non moltissime sonate sparse e anche alcune di quelle incerte scoperte negli ultimi anni quindi sarà un volume particolarmente complicato da impaginare ma vincente per il suo carattere un po' innovativo ecco a parte questo volevo dire che nel volume 10 abbiamo deciso io ed Emilia Fadini dopo una lunghissima riflessione molto sofferta abbiamo deciso di inserire delle versioni alternative delle sonate perché in alcuni casi ci sono chiaramente dei testi arcaici scarlattiani esempio su tutti la famosa sonata K9 in re minore molto nota una delle più eseguite fin dall'ottocento quella che era chiamata anche pastorale è stata incisa tantissime volte beh la sonata K9 è presente nell'arcaico manoscritto conservato a Torino è presente in una versione chiaramente giovanile che probabilmente risale ad almeno una ventina di anni prima ed è diversissima dalla versione di esercizi per gravicembalo possiamo dire con quasi assoluta certezza che Scarlatti ha preso un suo testo giovanile e lo ha rifatto lo ha rifatto in maniera drastica cambiando tantissime cose dalla battuta di 12 ottavi si è passata a 6 ottavi tanti accordi sono diverse le armonie sono diverse le alterazioni sono diverse alcuni passaggi melodicamente sono decisamente differenti le cadenze sono radicalmente diverse quindi è una versione arcaica molto avvincente che per la sua preziosità è stata inserita nell'edizione critica come versione alternativa così è stato fatto per la sonata K8 così per la K6 così per la K17 che adesso citava Enrico Baiano e per alcune altre la U11 ed altre ancora quindi semplicemente vi invito a considerare che il volume 10 dell'edizione critica che poi possiamo dire che è l'ultima opera di Emilia Fadini in un certo senso sì mi verrebbe da dire così è l'ultimissima cosa che lei ha curato quindi in questo volume ci sono versioni arcaiche alternative anche di sonate molto famose che io invito a leggere a guardare perché qualche esecutore coraggioso potrebbe benissimo proporle in concerto e sarebbero versioni altrettanto legittime di quelle diciamo ufficiali e magari delle belle scoperte anche per gli ascoltatori ci racconti qualcosa del volume 11 se si può non si può questi sono gli amici serpenti che fanno le domande imbarazzate no allora si può si può parlare tranquillamente purtroppo il lavoro è rimasto un po' indietro e quindi molto semplicemente nel volume 11 ci saranno le sonate che erano previste nel volume 10 ma non ci sono state Emilia Fadini le aveva proposte nel suo piano editoriale iniziale fin dagli anni 70 quindi quelle sono le sonate che compariranno per prime poi ci sono alcune sonate che provengono da manoscritti spagnoli in alcuni casi francesi altri conservati in America su cui io sto facendo un attento lavoro di valutazione mi sto confrontando con altri musicologi perché è molto molto difficile decidere quali sonate possano essere scarlattiane quali siano poco dubbie quali molto dubbie e quali spurie o sicuramente non sue quindi è un lavoro estremamente complicato a un certo punto una decisione andrà presa in modo definitivo quindi questo volume 11 è ancora in preparazione conterrà non moltissime sonate ma sarà un caso problematico dal punto di vista della scelta e penso altrettanto avvincente per per i contenuti perché saranno pezzi rari o inediti oppure scoperti da poco bene io ho anche finito se c'è qualche altra domanda volentieri osservazioni c'è qualche intervento io rilancio diciamo la palla ecco posso chiedere io qualcosa in ecco in questa ricerca di nuovi manoscritti ad esempio le collezioni private o le aste sono state utili per c'è speranza che il megafone è ancora qualcos'altro oppure il panorama delle fonti scarlattiane che per molto tempo è stato abbastanza stabile potrebbe arricchirsi ancora dunque per quello che ne so io da qualche anno pochi anni fa non ci sono state più scoperte importanti non so di casi io ho chiesto anche in America e in Inghilterra in Francia in Germania in Austria in Spagna in Portogallo ho chiesto ad archivi biblioteche istituzioni conservatori musicologi ho chiesto di farmi sapere anche in Italia naturalmente adesso siete presenti anche voi e che in diverso modo vi occupate di scarlatti se naturalmente a qualcuno fosse nota qualche rara testimonianza qualche inedito qualche sospetto di nuova sonata scarlattiana se me lo potesse comunicare il più urgentemente possibile potrebbe magari essere valutato per questo volume 11 che altrimenti fra qualche mese si chiuderà si definirà e poi verrà pubblicato comunque nulla vieta che poi in un futuro ci sia un eventuale appendice se si scoprisse un'altra fonte interessante cosa possibilissima per il momento diciamo che alcune scoperte negli anni 2000 sono state fatte sono interessanti e le sto valutando non sono tantissime però bastano poche per rendere decisamente interessante questo ulteriore volume che inizialmente non era stato previsto bene nell'undicesimo volume ci sarà pure un indice tematico dunque Emilia Fadini voleva farlo a parte e quindi è una questione che adesso è rimasta sospesa perché se l'undicesimo volume fosse troppo snello comunque molto piccolo molto più esiguo degli altri potrebbe darsi che si aggiunga questa parte come a coronamento diciamo dell'edizione sì potrebbe darsi devo parlarne con l'editore perché finora non è stato deciso però potrebbe essere molto utile io so che Emilia Fadini fin dagli anni 80 aveva stabilito in collaborazione per esempio con Malcolm Boyd musicologo importantissimo che per oggi non c'è più da un po' di anni e altri studiosi aveva stabilito poi di fare un volume di appendice conclusivo che oltre all'indice tematico contenesse anche dei saggi riassuntivi che facessero il punto della situazione su le sonate in generale i testi la modalità di edizione poi purtroppo non c'è stato il tempo di confermare questa parte che credo che non ci sarà perché di fatto le cose sono andate un po' diversamente in ogni caso l'indice tematico sarà poi importante che sia aggregato all'undicesimo o a parte sicuramente ci sarà benissimo quindi io ringrazierei ancora Malcolm e raghe e tutti voi di questa come dire importante occasione di confronto di approfondimento e vorrei invitarvi a concerto ma in realtà temo che appunto speriamo più che altro nel pubblico parmigiano anche il concerto sarà ripreso non trasmesso in streaming non trasmesso in streaming ma poi faremo in qualche modo di abbinarlo poi sul canale youtube del conservatorio al lavoro della giornata odierna quindi sarà tutto un unico una manifestazione che si completa anche con la musica anche con l'esecuzione questo credo che sia molto importante bene grazie ancora allora speriamo di vedarci presto e di continuare questo percorso appunto legato a Mila Fadini i suoi scritti e le sue idee che appunto come abbiamo visto erano ricchissime stimolanti e assolutamente come dire anche proiettate nel futuro quindi credo sia lo spirito migliore per appunto rendere fecondo questo 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 contributo grazie ancora arrivederci grazie mille grazie arrivederci a tutti ciao arrivederci ciao arrivederci grazie a tutti a presto ciao ciao Francesco ciao Enrico allora niente abbiamo interrotto il l'unico